Sono sicuro che dalla Maxi Perizia emergeranno elementi importanti e sorprendenti. Lo ha dichiarato Luca Migliorino, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi. Per il resto bocche cucite sui contenuti della documentazione depositata qualche giorno fa, che è attualmente secretata e che nelle prossime ore verrà illustrata passo per passo. I primi a riferire sono stati gli uomini della RIS, quindi toccherà ai medici legali. Alle 16.30 la parola passerà agli esperti informatici della RACIS, mentre concluderanno alle 18.30 i carabinieri del ROS incaricati delle indagini tecniche. In base a quanto anticipato dalla stampa, quasi tutti i dubbi sulla morte di Rossi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni la sera del 6 marzo 2013, sarebbero stati smontati. In particolare emergerebbe che tutti gli elementi oggettivi sul cadavere e sulla scena del delitto sono compatibili con il suicidio, mentre non ci sono indizi di colluttazioni o della presenza di altre persone. Resterebbero senza spiegazione invece nove ferite sul corpo di Rossi, sei al volto e tre alle ascelle, che non sarebbero correlate alla caduta dalla finestra.